Eccomi qui con Gianna Fragassi CGL e stiamo ormai con i tempi spiccioli per il primo maggio. Quali novità ci sono? Mi sembra che ci sia un parterre di prima grandezza però appunto sulle caratteristiche musicali credo che sarebbe bene, possono intervenire meglio di meglio gli organizzatori. C'è secondo me come elemento da sottolineare proprio per il contesto difficile in cui vive il nostro paese e per la situazione drammatica che si sta determinando nel mare Mediterraneo e quindi nel canale di Sicilia. Io credo che ci sia un tema che è quello della solidarietà che unisce la manifestazione di Pozzallo, dei test segretari generali con il pomeriggio del primo maggio. Noi l'abbiamo sottolineato in conferenza stampa, crediamo che questo sia l'elemento importante da traguardare anche attraverso la musica perché poi la musica produce e dà anche messaggi trasversali che sono comprensibili a tutti. Questo è un tema secondo noi che può essere sicuramente ben anche tradotto dagli artisti sul palco. Questo è importante, abbiamo moltissimi artisti, circa 27 gruppi. Sì, circa 27 gruppi, quindi gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Crediamo che sia anche un momento importante per la città di Roma, per i tanti ragazzi e le ragazze che aspettiamo numerosissimi per questa giornata. Un momento, come veniva ricordato, gratuito, quindi anche questo è un elemento importante, ma soprattutto un momento in cui si possano tenere insieme i temi del lavoro, un momento di divertimento, di ascolto, di svago con temi serissimi che sono quelli che ricordavo poco fa. Per concludere, un messaggio per il primo maggio? Un messaggio per il primo maggio? Lo slogan, solidarietà, diritti, integrazione e lavoro soprattutto. Questo è importantissimo, grazie a queste belle parole. Grazie. Di nuovo, buon primo maggio.